Per questo nostro spazio abbiamo più che mai bisogno di tutta la vostra attenzione. L'immagine meravigliosa che abbiamo alle spalle è quella della meraviglia, della beata Chiara Luce Badano. Nello studio con me un amico, un autore televisivo, scrittore, giornalista, bravissimo, biografo di Chiara, Franz Coriasco. Grazie Franz, grazie di essere con noi. Ciao Paola. E amico di Chiara e collegata da Sassello, siamo vicino a Savona, con la dolcezza del fatto di trovarci con lei proprio nella camera, nella cameretta di Chiara, la mamma, Maria Teresa Badano. Signora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E grazie mille volte, grazie di essere con noi, mille volte. Grazie, grazie a voi. Signora Cara, parto da lei, sua figlia, sua figlia beata, sua figlia è una ragazza di lezione per tutti noi. Perché Chiara Luce? Anche se il nome straordinariamente è giusto, perché? Sì, perché aveva questo desiderio, no? Ecco, e conosceva come dire anche bene Chiara Luce, Chiara Lubic e quindi un giorno mi ha chiesto mamma, io chiedo a Chiara un nome nuovo. Allora io mi sono un po' sorpresa e ho detto va bene Chiara, se desideri questo, così ha fatto. Ha scritto questo suo desiderio e dopo una settimana l'è arrivata la lettera che l'ha fatta gioire moltissimo, sia per la risposta che per il nome che le aveva assegnato. Allora Franz, poi ovviamente ci racconti questa amicizia, ed è un'amicizia che dura e andrà avanti per sempre, ma questa meravigliosa ragazza aderisce al movimento dei focolari appunto, perché portava dentro di sé già quella luce che poi le è stata data e aggiunta nel nome? Ma io mi permetto di dire che quella dichiara un frantendimento possibile vedendo la sua storia, che per certi versi è un cliché, una ragazza normale che poi nel fuori degli anni viene colpita da questo tumore implacabile e muore santamente. A 19 anni, tutto accade in un tempo. Esattamente. Io credo che l'arrivo della malattia non ha costituito un'inversione in un percorso esistenziale che era il suo. Un percorso che è iniziato, io credo, e la mamma lo può certificare, persino da prima dell'incontro con la spiritualità del movimento dei focolari, perché è chiaro, ha avuto l'enorme fortuna di nascere in un ecosistema familiare abbastanza speciale, straordinario, nella sua normalità, perché il papà Ruggero e mamma Maria Teresa non avevano niente di diverso da milioni di genitori che ci stanno ascoltando. Però c'era qualcosa di più profondo. Già il loro approccio che hanno avuto, aspettando questa figlia a 11 anni, è come primo pensiero il pensiero che non è una cosa loro, un loro possedimento, ma una cosa da tutelare. Da condividere, ecco, da condividere, già, e lì è iniziata. Lei ha fatto i suoi passettini quando aveva, da due mesi fino all'ultimo respiro. Signora Maria Teresa, ecco, questa fotografia è di una bellezza che toglie il fiato. La meraviglia di questa bambina e di questa ragazza che in famiglia era un tesoro. Ma questo, un tesoro, essendo una ragazzina, una bambina, è assolutamente normale. Certamente con un'attitudine al bene, con un'attitudine ad occuparsi del resto del mondo, che magari ce ne fossero di più, insomma, ecco, quello sì era speciale, ma l'aveva imparata da voi? Sì, ecco, noi avevamo, come dire, questa grande gioia che Dio ci aveva fatto donandoci questa figlia, no? E quindi in particolare per Ruggero, perché non concepiva il matrimonio senza figli. Quindi posso dire anche veramente che ha pregato molto, ma anch'io pregavo, ma non come Ruggero forse. E poi, quindi, potete immaginare quando è arrivata questa bambina così, che anche sin da piccola sprigionava gioia da tutti i pori, direi, proprio per questo carattere gioioso che avevo. Ma io sentivo anche tutta la responsabilità, sentivamo, no? Di questo dono che Dio ci aveva fatto e quindi sentivamo che dovevamo crescerla e rispettarla nella sua libertà. Franz, noi dobbiamo ringraziare anche tua sorella che ci ha aiutato. In realtà, voi ci avete reso possibile questo collegamento, questo momento che stiamo vivendo insieme. Perché c'è un'amicizia che nasceva già da prima, appunto, dove tu ti sei ritrovato amico. Sì, di sponda, diciamo. Di sponda, va bene. Chiara e Chica avevano un'affinità straordinaria e che quindi immediatamente c'era un senso di attrazione l'una verso l'altra, no? Eccole qua. Anche per carattere. Io ho sempre seguito molto marginalmente, anche perché ero più grandicello e quindi, anzi decisamente più grande, ci sono 13 anni di differenza tra me e Chiara, e quindi la trattavo mediamente come trattavo mia sorella, cioè come una mocciosa da tenere abbastanza alla larga, mentre viceversa lei, forse perché ero il fratello di Chica, forse perché scrivevo canzoni, scrivevo articoli di musica, le piacevano le mie canzoni, insomma per lei ero una persona importante, no? Sono passati 30 anni, vai a farti un giro sul web e vedi chi era davvero importante. Questa è una delle tante lezioni che mi ha dato chiaro. È una delle tante lezioni, ma c'è anche però l'essere importanti, nel caso di Franz, nell'aver messo a maggior ragione a disposizione quello che si sa fare, si sa scrivere, nel suo caso è molto bene, per raccontare, per continuare a raccontare Chiara. Signora Teresa, Maria Teresa, ha 17 anni e qui serve tutta la fede del mondo, Chiara si ammala, si ammala con la crudeltà di un male che le fa male dal primo istante e se la porta via, eppure quegli anni suo marito e voi li avete definiti gli anni più belli, gli anni più importanti, perché? Perché forse dopo il primo stupore di quello che abbiamo il dolore, possiamo dire subito chiaramente, di quello che avevamo compreso della malattia di Chiara, ci sembrava proprio che anche durante questi anni questa cosa, che Dio faceva scendere sopra di noi una grazia, così come la faceva scendere su Chiara, perché viveva così con forza e direi quasi nella gioia questa malattia. Dopo un po' di tempo abbiamo pensato anche che non lo faceva scendere Dio solo su Chiara, ma anche su noi due, perché il dolore era grande, era grandissimo, che non si può descrivere, ma c'era questa pace che emanava Chiara dal suo letto, dalla sua sofferenza, che ci dava serenità e dovevamo veramente comprendere, piano piano, via via, che se Gesù aveva fatto questo disegno su di Chiara e su di noi, non potevamo che accettarlo nel miglior modo possibile. Signora, lei è nella stanza di sua figlia e questo per noi è un dono nel dono, dove tutto credo sia rimasto uguale, no? Sì, per il suo desiderio, perché poco prima di partire per il cielo, allora lei aveva chiesto mamma quando io partirò, sarò partita, ti dispiacerà lasciare la cameretta tutta com'è? Io mi sono un pochino sorpresa da questa domanda così, ma ho risposto, va bene Chiara, se questo è il tuo desiderio sarà così, ed è per questo che è tutto, manca solo lei, ma c'è tutto, come prima. Chiara chiude gli occhi il 7 ottobre del 1990, saluta la mamma dicendo, sii felice perché io lo sono. Quando sarò partita per il cielo, tu scriverai l'esperienza che abbiamo vissuto e la andrete a donare. Franz, qua ci vuole una forza leonina per accettare e condividere. Sì, una cosa che posso dirti come testimone molto marginale di questa vicenda è che ogni volta che si aveva l'occasione, il regalo di poterla incontrare, anche negli ultimi tempi della sua malattia, è che guardandola non si provava mai, assolutamente mai, un senso di compassione. Non ti veniva da dire, povera ragazza, ti veniva da dire, mamma che invidia. Perché Chiara era oggettivamente, il dolore c'era straziante, terribile in tanti momenti, ma al di là di questo c'era una felicità profonda, non a caso come citavi sono le ultime parole che ha detto su questa terra, no? E non era una posa. Il suo papà Ruggero ogni tanto dubitava lo fosse, andava a spiarla nel buco della serratura quando lei era chiusa nella sua manzardina per vedere se magari era una posa che lei usava per pesare meno, esatto, no? Invece la vedeva e stava cantando addirittura delle volte, no? Franz, tu racconti che lei fosse capace di dire, dimmi di te. La si andava a trovare nella fase di questa malattia che, ricordiamo, in due anni l'ha portata via e lei ti raccontava un po' e poi ti diceva, però dimmi di te. Sì, sì, questo lo faceva con tutti. Lei, ma perché era una pratica che da anni lei applicava nel piccolo, io credo che certi tipi di valori, certi tipi di scelte, se tu non ti abitui prima con il piccolo, poi come puoi pensare di farlo quando arrivano le sfide impegnative, no? E quindi lei era proiettata agli altri, in due parole liquidava la malattia, sì, adesso sto facendo la chemia, oppure adesso farò questo, però dimmi di te, no? E quindi... Tu te la senti vicino? Ma forse per certi versi molto più di quando era viva, anche perché... Perché è come se avessi, a volte ti dico, io non sono credente, quindi è tutto da virgolettare o da mettere in corsivo, però a volte mi dà l'impressione di come avere una zanzara nelle orecchie, no? Che ogni tanto ti dice, Franza, attento, non fare questo, che già ci sei sbagliato una volta, vai, no? Eh, ci sono tanti modi. Lei ti ha detto quando sarò in paradiso ci penserò io a te. Eh sì, quello è l'ultima, l'ultima cosa che mi ha detto, io sono rimasto abbastanza basito da questa uscita, anche perché ero, io gli avevo appunto dimmi di te, io gli stavo dicendo, gli ho detto di me, tutto il peggio di quello che mi sembrava la vita in quel momento della mia storia, no? Sì. E lei se ne è uscita con questa bella frasetta, io mi ricordo che quando poi è andata, è stata, lo abbiamo accompagnato tutti al cimitero, ero lì con l'orologio, come dire allora, sei arrivata? Tutto a posto, il trasloco, eh? Sono qua, c'è una lista di cose che dovresti fare per me, però ci ha messo vent'anni a... Sì, ma è una ragazza precisa e ordinata, Chiara. Signora Maria Teresa, Papa Benetto XVI la proclama beata nel 2010, il 29 ottobre la festa liturgica della beata Chiara Luce Badano, perché è la sua festa, è la data della sua nascita, quanto sta aiutando tutti noi sua figlia? Quanto? Ma è difficile, è difficile dire, saper dire, ecco, quanti, quanti, perché sono, io direi, una marea di persone, no? Che vengono qua a visitare la sua stanzetta, la loro casa, no? E anche le esperienze che ci raccontano, proprio anche i cambiamenti di vita, ecco, dopo aver conosciuto Chiara. E quindi è una cosa che non saprei proprio dire, ecco, ma si serve veramente proprio di tanti e di tutti. Ecco, io e da poco, sono 14 giorni, non lo so, che sono ritornata, siamo ritornati con la chicca dall'Argentina e veramente è stato indescrivibile vedere proprio e prendere coscienza di come Chiara entra in questi cuori dei giovani in particolare, ma di tutti, ecco. Che è una cosa che lì ho detto proprio quando ero davanti a quelle 1300 giovani in quel palaero e mi sono chiesta e ho detto, ho preso coscienza che veramente Chiara sentivo che non era solo più figlia nostra, ma che ora era figlia di tanti, di tutti. Ecco, è stata un'emozione grandissima, ma bella, 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 bella. E sentivo anche che dovevo, come dire, no? In un certo senso, così, ecco, lasciarla andare, ecco, no? Perché sentivo che vedevo che entrava nei cuori di tanti. Signora Cara, che non è solo più nostra figlia. Intanto io mostro questo libro, questo libro, nel mio stare, il vostro andare, Vite e pensieri di Chiara Luce, Badano, Città Nuova, San Paolo Edizioni, da divorare, un libro da divorare, da tenere, da leggere, poi da rileggere, poi da rileggere ancora. Signora, senta. Io dico sempre, io, sì. No, dica, dica, dica. Io dico sempre che questo libro, no? Mi piace moltissimo, perché mi pare proprio che se lo sia scritto lei, quasi, no? E allora a me dà tanta gioia. Signora Maria Teresa, ce lo fa un regalo? Sì. Viene una volta a Roma? Sì. Venga a Roma, ci venga a trovare. Sì, volentieri. Eh, la aspettiamo in studio. Volentieri, volentieri. Grazie alla meravigliosa mamma. Grazie di tutto. Maria Teresa, grazie a lei, signora, si fidi. Fondazione Chiara Badano, Franz Fariasco, grazie. Un amico grande e i tempi a volte sono lunghi, ma arriva tutto. E ci vediamo domani. Adesso la recita della Conocina della Divina Misericordia. Siamo usciti un po' con i minuti, scusate, ma ne valeva la pena. A domani con l'ora solare, grazie. Che storia.